Ehi, coclissi, no, ecche, vede quelle sbarra a terra, di qua, di qua, di qua, come si chiamano? Coclissi, coclissi, bello quanto sei, illusionista, lui è illusionista, illusionist, illusionist, Sì, lei è doll, ma come sei bella, bella, ma che ci può, bacino, un video saluto, ecco qua direttamente dalla fiera di Roma, ma quanto sei bella, come si chiama lei? Lui è Coclissi, è illusionist, è maschio, lui è maschio, illusionist, ecco qui, illusionist, e lei come si chiama? Exclusive Doll, exclusive Doll, due fantastici cagnolini, una coppia, sono fidanzati, sono fidanzati, appresso, ma come si chiama? Ancora nove mesi questo, quindi, ah ecco, piano piano, ma che bello, ti è, dalla fiera di Roma, avete visto una coppia magnifica di cagnolini, Yorkshire Terrier, Yorkshire Terrier, Yorkshire Terrier, Yorkshire Terrier, un saluto a tutti, dalla fiera di Roma, ciao, ciao, ciao belli, ma che è un'altra modo di farci felicità? Belli, ciao, ciao. Belli, 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 belli.